Ladri in azione nel corso della notte a Modica. Ad essere presi di mira l'ufficio turistico di Corso Umberto e l'istituto comprensivo Santa Marta Ciaceri. Nel primo caso i gnoti sono penetrati nella sede dell'ufficio turistico rubando a quanto pare un cellulare e un pc, probabilmente forzando l'ingresso principale. Nell'istituto comprensivo Santa Marta Ciaceri invece il furto ha riguardato due personal computer. Le immagini di videosorveglianza potrebbero essere utili alla polizia che si sta occupando di entrambi gli episodi alla ricerca di elementi fondamentali per l'individuazione degli al momento ignoti autori.